ciao ragazzi e dopo i tricamps quale modo migliore per tenere in allenamento i rudimenti che abbiamo studiato se non quello di suonarci una bella marcia come quella che vi sto per fare ascoltare che si intitola downfall of paris e all'interno di questa marcia troveremo il rulla 7 il rulla 15 e diversi rudimenti con i flamm grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.